io ho levato le spiegazioni ma io leggo io non devo fare esercizio di memoria io allora devo fare altro giulio ha ragione perché ogni tanto mi dice studia studiatelo perché io poi arrivo qui che lui ha super studiato e quindi poi spesso mi fa il briefing grazie giulio lo dico davanti a tutti io fondamentalmente questa cosa la faccio perché mi diverto a studiare gli apparecchi e non sono mai soddisfatto abbastanza di averli studiati compresi capiti perché fondamentalmente il motivo per cui sono qua è questo qui esatto anche il mio e poi alla fine la cosa più frustrante che quando hai finito tutto a me capita spesso che mi sveglio di notte e mi viene in mente qualcosa che mi sono scordato perché poi non è che siamo onniscienti e sempre qualcosa sfugge che poi la grande differenza rispetto alla carta stampata da cui entrambi veniamo e che fino a un secondo prima di andare in stampa tu una correzione da puoi fare il video una volta che ti sei scordato un pezzo te lo sei scordato ciao va bene allora bellissimo audio analog Puccini anniversary ringraziamo audio analog per avercelo spedito per averci dato questa opportunità questa opportunità di cui io sono stra felice perché poi io ammetto di audio analog ho sempre sentito parlare molto bene ma è la mia volta che ho la possibilità di ascoltarlo con calma a lungo non in un contesto di fiera ma in un contesto controllato direi casalingo e mi è molto piaciuto perfetto allora sub skype campanella seguiteci a tra poco ciao ciao su questa audio analog partendo da lì c'è molto da dire ok allora tre linee di prodotto abbiamo studiato sì 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 allora l'audio analog è un'azienda italiana italianissima che ha una linea di produzione che negli anni visto che comunque l'audio analog esordisce intorno al 1995 quindi insomma è da diverso tempo che sul mercato la sua offerta si è via via evoluta si è prima molto ampliata poi si è ristretta per dare più ordine oggi la linea prodotto è articolata su una linea absolute che evidentemente è il top di gamma una linea anniversary alla quale questo appartiene ed è una linea che sostanzialmente si basa la pure AA però dicevo la linea anniversary si come dire porta a compimento quelli che sono i cardini progettuali filosofici potremmo anche dire dell'azienda toscana all'interno della linea anniversary oltre al puccini che ricordiamolo il puccini originale è stato il primo prodotto introdotto dalla audio analog era un integrato budget si budget molto di se vogliamo di scuola minimalista inglese quindi tutto ciò che non serve non c'è non aveva l'uscita cuffia non avere all'ingresso fono come così come questo ed è un amplificatore che in qualche maniera un po fatto la storia della hi fi italiana perché è stato diciamo a parte un successo commerciale ma comunque le sue qualità sono state riconosciute non soltanto in italia ma anche all'estero e ne hanno fatto insomma un piccolo caso di orgoglio nazionale tra l'altro si caratterizzava per sole due manopole a da questa parte esattamente e invece normalmente si mette una parola a destra e una a sinistra si mettono tutte e due e quindi si caratterizzava anche dal punto di vista estetico gli altri prodotti della linea anniversary diciamolo c'è un preamplificatore che è il bellini poi c'è donizzetti che è il finale e poi c'è il maestro che è un integrato derivato da questo o meglio questo forse è derivato da quello ed è nasce prima questo e quello è totalmente bilanciato questo no e a 150 watt di potenza su 8 ohm e questo invece ce n'ha 80 ho della serie più grande che si chiama absolute absolute ci sono tre prodotti molto interessanti perché c'è un integrato che può funzionare in classe a o in classe a b poi c'è un preamplificatore c'è un finale monoblocco quindi mono in classe a per cui ha un po rispolverato anche la classe a che invece da molti costruttori è stata abbandonata fondamentalmente per questioni di consumo e per questioni di dissipazione termica e quindi costi o caratteristica essenziale di questo prodotto è la totale assenza di uso della controreazione e questo già succedeva nella prima versione e questo diciamo così è un po' una delle caratteristiche sulle quali la comunicazione di audio analogue si concentra si concentra maggiormente volevo poi fare i complimenti a chi ha pensato questo tipo di organizzazione non solo e non tanto del pannello frontale che poi andremo a vedere meglio ma di come è organizzato da una parte la regolazione del volume quindi il sinottico il quadro sinottico con cui si vede se abbasso o alzo il volume ma come viene decodificati i problemi questa teoria di led che vedete qui e che stiamo vedendo adesso in sovrimpressione che sono quelli relativi al volume nell'utilizzazione abituale servono anche come rappresentazione dei vari codici errore che possono essere in qualche modo rilevati dal sistema di controllo della macchina sovracorrente interruzioni quant'altro sovratemperature ecco a seconda di come si accendono questi led la macchina ti sta dicendo che c'è stato questo o quel problema interessante il fatto che sempre utilizzando questo schema di rappresentazione si può intervenire sul menu setup che permette di gestire alcuni parametri della macchina primo su tutti la regolazione del volume ci sono quattro curve mi pare di ricordare di gestione del volume e diciamo il senso è che si può scegliere la curva che meglio si adatta alla sensibilità del diffusore che è collegato laddove stiamo utilizzando un diffusore ad alta efficienza media o a bassa efficienza si interviene sul volume in maniera differente e questo diciamo che sul telecomando potrebbe essere certe volte scomodo o certe volte la velocità del telecomando troppo repentina rispetto al diffusore che si sta utilizzando quindi questa è un'attenzione che io ho molto apprezzato molto molto interessante e del tutto originale tra l'altro il default è una salita ripida fino a un certo punto e poi una salita un po' più lenta un po' più lenta che poi è quello che normalmente serve di più il telecomando è un'altra cosa molto interessante di questo amplificatore perché non è assolutamente il solito classico telecomando made in china rimarchiato ma è totalmente fatto da loro è un blocco in alluminio molto pesante con pochi tasti quelli che servono fondamentalmente selezione degli ingressi volume più volume meno lo stand by il muting e poi questo tasto di setup che permette di accedere alle regolazioni ho allora 5 ingressi mi ricordo bene giulio 5 ingressi un ingresso può essere bypass home theater il quinto ingresso è bilanciato ok come abbiamo già detto non all'uscita cuffia non all'ingresso a fondo un ingresso può essere configurato in modalità direct quindi a scavalco a override della regolazione del volume dal punto di vista della esecuzione la macchina è di una bellezza veramente unica unica cioè veramente una macchina realizzata si vede con l'intento di fare qualche cosa di importante e quindi è completamente sparita la connotazione di prodotto budget qui a dispetto di un prezzo che secondo me è onestissimo insomma c'è veramente una macchina bella elegante ben realizzata vogliamo dire il prezzo 5 mila euro 5 mila euro il fattore di forma è lo stesso per la linea absolute e per questa linea anniversary mentre invece la pure AA ha un fattore di forma e quindi un costo poi finale diverso una cosa la volevo dire sul bordo superiore lo stiamo vedendo nell'immagine che sta andando in questo momento c'è la scritta audio analog da un lato e la scritta Airtek dall'altra Airtek è l'azienda che realizza cablaggi e diffusori che fa parte diciamo dello stesso gruppo a cui appartiene audio analog nella fattispecie per le due gambe superiori quindi la gamma anniversary e la gamma absolute Airtek si occupa anche della progettazione quindi questo prodotto è marchiato audio analog e la progettazione è a cura di Airtek ricordiamo audio analog produce rigorosamente tutto in Italia cioè l'esternalizzazione che forse per un periodo c'è stato c'è stato anche l'audio analog e storia del passato cioè questo è un prodotto a tutti gli effetti realizzato completamente in Italia altre cose da dire sì allora uno sguardo al pannello posteriore che state vedendo in questo momento lascia intendere che la macchina ha una configurazione essenzialmente simmetrica quasi diciamo un dual motor tanto che la presa di corrente la vaschetta IEC si trova esattamente sull'asse di simmetria sull'asse centrale di questa macchina e tutto il resto è completamente speculare quindi questo già ci fa intuire già ci fa immaginare cosa troveremo all'interno benissimo allora beh però dobbiamo aprirla andiamo andiamo a vedere cosa c'è dentro parto Giulio? vai ce l'abbiamo fatta? speriamo allora guardiamo la costruzione completamente dual mono di questo amplificatore avvicinati cominciamo da ingresso 220 del trasformatore queste due uscite che sono uscite da 15 volte per il preamplificatore e queste che sono le uscite da 42 volte per i finali e infatti giallo bianco giallo fanno capo a giallo bianco giallo qui questo come potete vedere left pre supply è l'alimentatore dedicato esclusivamente alla sezione di preamplificazione del canale sinistro stessa cosa sta da quest'altra parte vieni di qua così si vede meglio eccola qua ok? questi due castelletti vieni qui che inquadriamo uno tre castelletti uno due tre portano la tensione in questa scheda superiore questa scheda superiore è sempre completamente divisa dual mono con abbiamo già detto le alimentazioni separate fa la preamplificazione la cosa più bella da notare è non solo che vengono utilizzate esclusivamente transistor e quindi non ci sono operazionali è tutto discreto ma i componenti utilizzati sono di livello high end condensatori Audin i miei tanto amati Vima Rossi questi che sono condensatori Amica Argentata e resistenze Dale queste resistenze sono le migliori resistenze che si possano utilizzare per un dispositivo audio andiamo poi qui questi sono i condensatori di filtro EPCOS 10.000 microfarad sezioni di potenza con tre coppie di transistor a canale notare il grasso al silicone che è un grasso al silicone verde non quello bianco e quindi quello è quello a prestazioni superiori ricordo che il grasso al silicone serve per migliorare la conducibilità termica le resistenze dei transistor poi qui vediamo il relè di protezione delle casse questi splendidi cavi che servono per portare il segnale delle casse fino ai binding post e qua poi possiamo vedere la sezione degli ingressi ogni relè corrisponde quindi questo relè ha un pin 1,2,3,4 e questo relè invece fa l'ingresso XLR come potete vedere una volta che gli ingressi vengono switchati entrano qui dentro fanno la preamplificazione e poi dalla preamplificazione si scende verso la parte di potenza questi sono quelli che i nostri nonni chiamavano i termostati il termostato che serve, che poi è un sensore termico che serve a dire all'amplificatore se la temperatura della letta è corretta o meno e poi posso girarlo Giulio che facciamo vedere il pannello è molto pesante ecco qua facciamo vedere il pannello frontale da dietro CPU per la logica di controllo che fa sia l'IR che il controllo del volume con questo encoder che serve sia per la regolazione del volume che per l'accensione e spegnimento del prodotto e poi direi che ci siamo possiamo andare sul pannello posteriore bravo dedichiamoci al pannello posteriore pannello posteriore che ha dei bellissimi binding post eccoli qua che possono accettare banana, forchetta o cavo spellato sono davvero belli e garantiscono un eccellente serraggio XLR, RCA la vaschetta 220 esattamente al centro con l'indicazione della fase esattamente quindi ci possiamo ritenere soddisfatti ottimo ottimo eccomi cari follower all'ascolto ciao deve scaldare ma tanto sì questa cosa la diciamo sempre la dicono tutti però poi ci sono apparecchi che sono più o meno sensibili a questa faccenda del condizionamento termico il Puccini Anniversary che ci è stato gentilmente concesso in prova noi ignoriamo se fosse stato precedentemente rodato oppure no noi abbiamo ragionato come se non lo fosse e lo abbiamo fatto andare a lungo insomma anche facendogli fare delle nottate di riproduzione in continua in modo tale da insomma poterlo considerare rodato tuttavia è una macchina che in questo mi ricorda i miei vecchi LAM per potersi esprimere deve essere deve stare acceso secondo me almeno un paio d'ore prima dell'ascolto forse anche qualcosa di più è come se la sensazione quantomeno che noi abbiamo avuto è a caldo ci fosse una maggiore omogeneità fra le varie parti dello spettro quindi la gamma bassa si raccorda perfettamente con la gamma media laddove invece a freddo questa sensazione è non così giusta come dovrebbe essere il che può portare al giudizio che però era un giudizio che io avevo dato inizialmente ma era un giudizio errato che fosse un amplificatore che predilige alcune tipologie alcuni generi musicali piuttosto che altri ma no, non è vero è un amplificatore molto buono e come tutti gli amplificatori molto buoni non sono ritagliati su un genere musicale sono degli amplificatori musicali che funzionano bene con tutto e questo Puccini fa parte esattamente di questa tipologia amplificatore, cambiamo camera, universale non è che poi per il prezzo di acquisto di questo Puccini che comunque è 5.000 euro che sembrano pochi sembra quasi che la fascia di ingresso di amplificatori che possiamo definire ben suonanti oramai sia intorno ai 4-5.000 euro il che non è una cifra bassa no, però anche qui dobbiamo fare un po' un distingo secondo me non facciamo nomi non faccio nomi perché non mi voglio attirare gli strali e l'odio della community più di quanto già io non sia riuscito a fare nel corso dei mesi perché si sa io sono uno snob irrispettoso occhialuto perché ti hanno anche definito quello con gli occhiali il signore con gli occhiali allora noi dobbiamo sempre fare un ragionamento che è quello di dire l'apparecchio funziona o non funziona al minimo di base un amplificatore tu lo attacchi alla corrente lo accendi, gli attacchi alla sorgente schiacci il bottone e quello suona tra quello e un amplificatore ben suonante secondo i miei secondo i nostri parametri c'è una certa differenza allora laddove sull'amplificatore quello nel quale io mi sono beccato di insulti io lo ritengo un amplificatore che svolge il suo compito di amplificare ma non lo posso mettere nella categoria degli oggetti ben suonanti il Puccini Anniversary è un amplificatore virgola ben suonante punto io direi punto esclamativo punto esclamativo va bene cioè stiamo parlando di un apparecchio che non si limita ad amplificare il segnale d'ingresso lo fa molto bene il che significa non che ci aggiunge del suo significa che non fa dei casini significa che lo fa nella maniera più pulita più lineare più aggraziata possibile io lo definirei non interpretante nel senso che è un amplificatore che non fa quasi sentire il suo apporto e che poi è quello che deve fare un amplificatore quindi se all'inizio appena acceso ha proprio mostrato quella incongruenza tra la gamma molto bassa tra l'estremo grave e il medio basso e medio poi si è mano mano che si scaldava si è omogeneizzata la cosa e ci ha fatto sentire la musica per quello che era senza alcun tipo di interpretazione di me e secondo me questa è una caratteristica degli amplificatori buoni e rivelatori si ha mostrato in maniera cruda le registrazioni meno riuscite esatto e quelle più riuscite magari talvolta capita che uno è molto affezionato ad una traccia, ad un disco perché i contenuti artistici fanno sì che uno sia appassionato innamorato di quel certo disco poi però con alcuni apparecchi e questo Puccini Anniversary è il caso quella traccia dimostra che per quanto tu la ami le voglia bene non è così ben registrata altre tracce magari che uno conosce ma che non è così empaticamente coinvolto suonano molto meglio ma questo Puccini te lo dimostra te lo porta avanti in maniera estremamente chiara ecco l'aggettivo però radiografante che a me non è mai esatto non è mai piaciuto no qui non ci sta qui non c'è qui non ci sta perché poi radiografante è quell'amplificatore che nella come dire ossessione di mostrarti tutto finisce con l'essere sgraziato era un po' il caso ad esempio di quei primi Spectral con i quali abbiamo avuto a che fare certo alcune versioni di qualche Spectral un po' meno fortunato un po' meno musicale che avevano questa frenesia del mostrare tutto e finivano con l'essere eccessivamente appunto radiografanti no qui non stiamo sul fronte dell'amplificazione radiografante nella maniera più assoluta qui secondo me stiamo nell'ordine nel nel gruppo di quegli amplificatori che io tenderei a definire giusti che poi giusto possa essere per qualcuno deludente in quanto non spettacolarizzante ma quello però è un problema di chi ascolta questo poveretto fa esattamente il mestiere che deve fare e poi Giulio permettimi scusa ma è una precisazione molto importante noi l'abbiamo ascoltato con le Martin Parker Duo che sono delle casse impegnative impegnative e che non sono a livello dell'amplificatore se vogliamo perché sono casse che costano tre volte il costo dell'amplificatore quindi lo abbiamo anche messo nelle condizioni da una parte di potersi esprimere al meglio ma dall'altra di pilotare con i suoi generosissimi 80 watt comunque di pilotare due casse estremamente impegnative dunque un diffusore che se non ricordo male è da 86 dB ma un diffusore lo ricordiamo perché si fosse perso la recensione che noi abbiamo fatto o forse che noi faremo quindi non nessuno ha colpa né peccato è vero perché questa recensione delle Martin Parker Duo uscirà un po' più avanti ma sono dei diffusori caratterizzati dalla presenza di un radiatore passivo e il radiatore passivo richiede un amplificatore che sia in grado di avere un controllo ferreo sulla controparte attiva quindi qui c'è un due vie con un midwoofer attivo e un radiatore passivo se l'amplificatore non è un amplificatore come dire dal polso di ferro dal pugno di ferro no dal polso di ferro non mi ricordo come si dice che non ha sufficiente controllo con un passivo le magagne si sentono tanto qui invece lo smorzamento del woofer quando ce n'è bisogno è stato assolutamente incomiabile assolutamente perfetto e qui si apre un'altra piccola parentesi amplificatore con controreazione o no perché questo non ce l'ha per niente questo non controreazione quindi questo va incontro alle idee al pensiero di chi dice meglio non avere controreazione a noi almeno a me ma sicuramente anche a te proprio non ci interessa a noi interessa quello che si sente perché poi la scelta del progettista è stata una scelta giusta sbagliata non lo sappiamo per noi l'importante è quello che ascoltiamo è quello che abbiamo ascoltato indipendentemente dalla controreazione è davvero buono una cosa che però a questo punto mi viene voglia di chiedere ai signori della Puccini della Audio Analog sì scusate della Audio Analog è visto che l'integrato top di gamma enorme è un integrato classe A classe AB se avessero voglia di mandarcelo anche se poi non so come facciamo a portarlo fino qua dentro perché so che pesa moltissimo potremmo fare un interessantissimo ascolto con la differenza fra classe A e classe AB quello è un amplificatore che riprende un po' quel percorso segnato inizialmente dallo Yamaha CA2010 che aveva proprio la possibilità attraverso un commutatore sul pannello frontale di cambiare fra classe A e classe AB quello fa la stessa cosa e mi viene tanto voglia e curiosità di capire un po' che differenza c'è fra l'uno e l'altro ma se il suono è come credo perché quello è un top di gamma migliore di questo credo che sarebbe interessante sarebbe estremamente interessante una cosa mi ha colpito ora io so che questo modello questo Puccini Anniversary ha subito al momento dell'uscita che risale oramai a qualche anno fa è stato lungamente messo a punto proprio con lunghi test di ascolto e quindi insomma so che dal punto di vista della messa a punto pre-produzione c'è stato un enorme impegno e a me quello che ha colpito particolarmente è la riproduzione delle voci ora uno dice ma perché proprio le voci le voci intanto sono particolarmente rivelatrici perché noi passiamo la vita ad ascoltare voci quindi siamo tutti molto sensibili alle caratteristiche della voce della voce umana con questo Puccini Anniversary le voci quelle sicuramente molto ben registrate ma mi spingerete a dire anche quelle un po' meno bene registrate vengono fuori che è una assoluta meraviglia noi prima ci siamo sentiti una versione di Heroes di David Bowie interpretata da Peter Gabriel bellissimo tra l'altro era una delle prime tracce a 96 Kilohertz che Bauer e Wilkins forniva con quel loro servizio di streaming io ce l'ho sempre avuta in testa come una delle voci meglio registrate e qui l'ha coppiata Puccini Anniversary e Martin ha fatto una magia veramente era nitido si sentiva ogni singolo dettaglio si sentiva il tono si sentiva come posso dire il contenuto armonico del pianoforte che suonava sotto in una bolla di riproduzione di suono che originava dai diffusori perfettamente coerente dal punto di vista dimensionale cioè quello veramente emozionante così come emozionanti anche l'ascolto di alcune partiture di musica sinfonica anche di tecno di pop elettronico ci siamo fatti un giro con i Depeche Mode chi ti dice che non senti musica moderna però questo mi fa fare un'altra considerazione Giulio su questo Puccini Anniversary che è quasi un amplificatore che appartiene a una fascia più alta rispetto alla sua perché questo è un discorso che va fatto perché noi stiamo parlando come se niente fosse di interfacciamento con casse da 15.000 euro più o meno il DAC a acqua la scala costa 7-8.000 euro quindi la catena diciamo si chiudeva su un amplificatore che costa meno sia della sorgente che delle casse e ci ha dato grandissima soddisfazione tirando fuori la personalità delle Marten e le caratteristiche sonore dell'aqua la scala quindi tanto di cappello perché quasi mi verrebbe da dire e mi verrebbe dal cuore affermare che sembra quasi un amplificatore dal doppio del costo vogliamo dire io il bollino best buy su questo amplificatore ce lo metto sicuramente e va bene te lo approvo fin da subito questo bollino best buy e la potenza 80 watt potrebbe sembrare poca certo diciamo le cose come stanno siamo in un ambiente piccolino ben trattato siamo in un ambiente ben trattato e quindi forse l'unico vero limite di questo amplificatore possono essere gli 80 watt che vengono superati dal modello esatto stavo dicendo superiore che tra l'altro è completamente bilanciato quindi non so quanto costi però per chi ha esigenze di una sonorizzare degli spazi più ampi o casse ancora più richiedenti richiestive di queste qua allora c'è anche la soluzione con il modello più grande che mi verrebbe voglia di ascoltare ma penso anche questo diciamo che abbiamo mandato dei messaggi nella bottiglia ai signori di audio analog per due modelli per due modelli uno forse un po' difficile da trasportare l'altro probabilmente scusa tu voglio dire al posto di fare palestra no credo che costi 60 kg una cosa del genere va bene va bene grazie subscribe campanella fate i bravi a presto a presto Grazie a tutti.